Bene, generale. Ci dica. Makarov vuole completare ciò che ha iniziato a Verdansk. Ha ordinato a Connie di colpire la diga Gora di notte. Se fa assoltare la diga, inonderà l'intera città. Morirà molta gente. Se segue il suo piano, incolperà Pharah e l'Occidente. Sempre se non lo fermiamo. Pensate alla diga. Alex e i miei hanno rintracciato Connie fino all'Urdigstan settentrionale. Forse è una base operativa di Makarov. Guiderò un assalto laggiù al mattino. I tuoi non possono andare da soli. Non lo faranno. Shadow darà supporto aereo. Non possiamo lasciare che Graves apare il fuoco vicino a Pharah ai suoi. Io mi fido della Shadow. Hai detto di tenere Graves al guinzaglio, ed è ciò che farò. Tienilo molto stretto, generale. Vuole la sua vittoria. Sì, puoi dirlo forte. Io ai Gascon Pharah, sopra i Ghost alla diga. Ok. Nick fornerà il trasporto. Sorveglieremo con un Predator. Non fatevi scoprire. Non succederà. Occhi aperti e concentrati. Buona fortuna. Watcher 1, qui Bravo 07. Siamo alle posizioni primarie. Attenzione, ci sono assembramenti di conni in vari punti sotto di voi. Sicurezza per i loro demolitori. Sorvegliano le bombe. Affermativo. Scovate le cariche e disarmatele. Ci sono in ballo troppe vite. Watcher, chiudo. Io procedo verso il bacino idrico. Buona caccia la sotto tenete. Anche a te, Johnny. Buona caccia la sotto. In movimento. Ghost, la Shadow ti ha lanciato delle scorte. Sta attento. Sembra che i conni le abbiano circondate. Nessun problema. Quei lanci possono tornare... Capito. 07, sei compromesso. Via da lì. Impossere. A presto. ... ... ... ... ... ... Grazie. 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 Ti danno la caccia, 07. Fa silenzio. Minaccia rimossa. 07, vai alle postazioni bomba. Il tempo non è dalla nostra. Watcher, coni intorno a un edificio a sud-ovest. Trova quegli esplosivi e mettili fuori uso. Watcher, visuale su coni ai piedi della linea. C'è la parte, c'è la parte. C'è la parte che si è iniziata. I'vita, c'è la parte. C'è la parte che si è iniziata. Vi a fare, si. Mi sono iniziata. Ma lo so, la parte a chi. Ma lo so, la parte a chi. Stanno arrivando rinforzi nemici Passo al setaccio la sala di controllo Attento 07, là dentro non potrò vederti Connie farà saltare la sala di controllo Bene Sì Subito Disarma Sala di controllo al sicuro Pericolo scampato Bravo, 7-1 a Watcher 1 Qui, Watcher Abbiamo un problema qua su, contenitori di canzina qua Ancora intatti Makarov vuole avvelenare l'acqua Non si accontenta di non dare la città Vuole avvelenarla Non ci saranno superstiti Al momento voi due siete gli unici in grado di fermarlo Fatelo Ghosts, stanno setacciando l'area Non farti vedere Non si accontenta di non fare Non si accontenta di non fare Grazie a tutti No Oh Coni non sospetta di te Sbrigati o scoppierà un casino Controllo le passerelle a sud della diga Un'esplosione metterebbe K.O. la centrale e le strutture di supporto E la diga crollerebbe Dobbiamo evitarlo Diamoci da fare, tenente Watcher, carica coni sulla passerella Ricevuto, attiva la carica Bomba sulla passerella disarmata 07, stando alle comunicazioni nemiche Coni ha 4 squadre di demolizione 4 squadre e 4 bombe Dobbiamo trovarne ancora 2 5 squadre Nomina Siamo Che Non Come 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 ghost stanno setacciando l'area non farti vedere non Watcher, Connie ha il ponte e sorvegliano qualcosa Il ponte controlla il flusso d'acqua Se lo fanno saltare, Verdank sarà inondata L'intera città dimira sott'acqua E nessuno avrà scampo Ghost, il ponte è un possibile bersaglio Cerca esplosivi nell'area Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ancora non sanno di te Ma non metto una torretta Oh, no Oh, no Oh, no Watcher 1 qui, bravo 7-1 Sono a metà del bacino idrico Ho raccolto diversi contenitori Ricevuto 7-1 Assicurati di prenderli tutti Contaci Watcher Sbrigati 07 Non c'è un secondo da perdere Oh, no 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 Gambe in spalla, tenente. Forza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.